Swap Riders! Swap Riders! Adrenalina inizia a premare! Questa corsa sta per cominciare! Quoi tuning alla bestia se vuoi vincere! Benvenuti a un'altra bestiale gara di Swap Riders! Oggi ci troviamo nella Tarantoo Jungle, un circuito spettrale! Datemi retta, una giungla piena di ragni non è la pista più confortevole del campionato! I Riders se la staranno facendo addosso! E la gara ha inizio! Skeleton in prima posizione, seguito da Cobra, Frecchi, Shark, Drag e Scorpio! Skeleton inizia ad attaccare! Bombe di ossa di Skeleton! Acido di Cobra! LOL! Scorpio con fiamma di potere! Attenzione alle sue chele! Incredibile! A presto! Bestiale! E arrivano nella zona degli Aractidi! Strapieno di ragni! A Frecchi fanno paura, povero! Che bestia! Persino il ragno era spaventato! Che razza di insetto! Tutto per te! E anche Crono sta per partire! Abbiamo tutte le bestie in gara! Franck è andati! Che precisione, Frankie! Gli è caduto proprio sopra! Portalo via, portalo via! E invece se la porta con sé! Guarda, Sarco li aiuta! Che bravo compagno! I riders arrivano nella città perduta! Fiamma di potere! Cobra vuole proprio farsi notare in questa gara! Ragni che saltano! Getto di acido! Wow! Li ha fusi! Il Crono è già qui! Wow! Non c'è modo di fermare questa bestia! Li ha abbattuti! Scorpio preferisce evitare la lotta! Guarda, Frankie! Ha superato le sue paure! Che coraggio! E ha lasciato strada libera agli altri! Attenzione a Drac! Perché vuole darsi da fare! Ah, Scorpio non è uno sprovveduto! Ci sa fare! Tuning the Beast! Frankie non molla e forza il tuning con Drac! Credo che questo tuning possa servire a Frankie nella prossima tappa! Sicuro! Perché adesso raggiungono i burroni della trappola! Per il momento sono ancora tutti in gara! Vedremo come riusciranno a superare queste ragnatele! Crono è nella zona dei ragni salterini! Quei ragnetti sono un antipasto per Crono! Non! Attenzione! Quel ragno è di taglia extra extra large! Se non risponde agli attacchi, meglio schivarlo! Come ti dicevo, Frankie ha il tuning vincente! Oh no! Drac! Drac preso! E i riders lasciano l'area dei burroni! Che strategia Scorpio ha preso in giro Frankie e Charco! Frankie si è salvato per un pelo! Più che altro grazie alle ali! Addio, Charco! Quel ragno gigante sa che Crono non è un rider qualunque! Infatti, si è levato dalle scatole! C'è una bella lotta per la testa della classifica! Skeleton sta giocando forte! Vuole vincere oggi! Frankie è nei guai! Crono gli sta col fiato sul collo! Oh! Lo ha schiacciato! E la testa della gara si avvicina al traguardo! E Cobra torna alla carica! Non ha ancora detto la sua ultima parola! Ma chi ha vinto? Non ne ho idea! Vediamo il photo finish! Vince Scorpio! Secondo Skeleton e terzo Cobra! Ma quello che ha fatto Scorpio è legale? A te solo hai pinze! Stando al regolamento, è consentito! Scorpio, hai una faccia tosta! Oggi è stato il più intelligente della classe! Il salvataggio di Charco non sarà facile! Spero che non soffra di aracnofobia! Ahahah! Swap Riders Swap Riders Adrenalina inizia a premare Questa corsa sta per cominciare Puoi duncare alla bestia se vuoi vincere! Benvenuti a un'altra brutale gara di Swap Riders! Oggi percorriamo Angry Volcano Un circuito molto pericoloso Dove fiumi di lava e terremoti Renderanno le cose molto difficili per i nostri riders I riders sono già concentrati per l'inizio della gara! Wow! E la gara ha inizio! Drac esce per primo Seguito da Scorpio, Frankie, Charco, Cobra e Skeleton Drac sembra essere molto a suo agio nel fuoco Attenti! Quei grumi di lava fanno un sacco male! Il terreno di questa pista è imprevedibile! Guardate i picchi che si sono formati! Wow! Credo che oggi sia il tuo giorno, Drac! Fiamma di potere per Scorpio! Super pinze! Che attacco fantastico! Bella mossa, Frankie! Pazzesco! Bestiale! E arrivano a Villa Barbecue! Forza, riders! Frank and Daddy! Ha piantato Scorpio nella staccata! È fuori! E sta per partire Crono! La bestia si muove! Pazzesco! Quella lava gli fa solo il solletico! Frankie con la fiamma di potere! Vuole la prima posizione! Vediamo come affrontano il ponte rotto! Dadi di potere! Wow! L'ha beccato nel posto peggiore! Che bagno di fuoco! Attento, Frankie! Forza! Metticela tutta! Eh! Da sciarco! Me l'aspettavo! Dai, Frankie! Spingi! Questa è una macchina! Non ci posso credere! Frank ha sopravvissuto alla lava! Certo! È un drago di fuoco! Eh! Scorpio! Quel motore è fuori uso! Oh! Era prevedibile! Crono! Almeno lo ha spento! E i riders arrivano in zona sismica! Oh, io, io, io! Sciarco, l'hai scampata per un pelo? Oh, no! Cobra! Lo abbiamo perso! È pericolosissimo questo tratto! Oh, sono più in tensione delle viti di un sottomarino! E Crono sta arrivando! Drag cattura la fiamma di potere e guadagna posizioni! Sciarco soffre il caldo e sta perdendo velocità! Tuning the Beast! Skeleton ne approfitta e forza il tuning! Si scambiano la schiena e la mandibola! Skeleton vuole il getto d'acqua di Sciarco! E Sciarco può usare l'arma sonica di Skeleton! LOL! Crono si arrampica sui muri! Letteralmente! E i rider raggiungono l'ultimo punto! Un fiume di lava senza ponte! Ecco la strategia di Skeleton! Sta solidificando la lava! Geniale! Cosa credevi, amico? L'acqua da sola non basta! Servirebbe il ghiaccio! Sciarco con l'urlo dello Skeleton! Ha gettato un ponte sulla lava! Alla fine Sciarco ha vinto il premio per il miglior tuning! Inoltre ha lasciato strada libera agli altri! Si stanno avvicinando al traguardo! Manca poco, amici! E vince Sciarco! Secondo drag, terzo franchi! Congratulazioni squalo! Oggi li hai mangiati tutti! Sciarco ha preso in simpatia questo tuning! Infatti! Guarda cobra, mica male! Ha fatto un bagno di fuoco ed è come nuovo! Ha 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 ha… Grazie.